Il fischio del cane è una tecnica di manipolazione utilizzata dal narcisista patologico per manipolare, appunto, per abusare della sua vittima. Si tratta di messaggi in codice, il narcisista utilizza dei toni, degli sguardi, delle frasi, dei commenti, il cui significato è nascosto agli altri, ma il cui vero significato invece è chiaro alla vittima. Questi messaggi vengono utilizzati in pubblico per minacciare ed impaurire la vittima, per umiliarla e denigrarla davanti agli altri, per provocare gelosia e instillare insicurezza nella vittima. Come dicevo, questi messaggi in codice non sono assolutamente colti dagli altri, anzi spesso appaiono piuttosto innocenti, per cui se la vittima prova in pubblico ad affrontare il narcisista, verrà accusato di essere il pazzo o la pazza della situazione e il narcisista apparirà assolutamente innocente.